I tassi di disoccupazione giovanili sono uno scandalo. Uno scandalo che non solo richiede di essere affrontato anzitutto in termini economici, ma che va affrontato anche, e non meno urgentemente, come una malattia sociale dal momento che la nostra gioventù viene derubata dalla speranza e vengono sperperate le sue grandi risorse di energia, di creatività e di intuizione. È la riflessione con la quale Papa Francesco ha colto in Vaticano i partecipanti alla conferenza internazionale promossa dalla Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice. Papa Bergoglio ha salutato con soddisfazione l'impegno dell'istituzione a costruire quella civiltà dell'amore che abbraccia l'intera famiglia umana nella giustizia e nella pace, mettendo a fuoco alcune delle urgenze contemporanee. Oltre alla disoccupazione giovanile, alla lotta alla povertà, il Pontifice ha nuovamente parlato della crisi dei profughi, soprattutto alla luce della sua recente visita all'Esbo. La comunità internazionale ha detto e chiamata a individuare risposte politiche, sociali ed economiche di lungo periodo a problematiche che superano i confini nazionali e continentali. Papa Francesco ha infine invitato tutti a promuovere un'economia che non sia esclusivamente orientata al profitto e al benessere materiale, un'economia dell'esclusione e dell'iniquità, ma che favorisca lo sviluppo integrale dei popoli del mondo.